Controlli interforze in centro storico a piedi, pattugliamento continuo anche la notte e controlli speciali nella zona del parco del castello con l'ausilio delle unità cinofile. Dopo i numerosi episodi di violenza che hanno caratterizzato il centro, la prefettura e le forze dell'ordine rispondono con un dispositivo massiccio. Le forze di polizia si sono riunite in prefettura per coordinarsi meglio. Le forze dell'ordine parlano di numeri e l'Aquila per loro si colloca ancora tra le città più sicure d'Italia, ma la percezione di insicurezza dei cittadini è cosa diversa e così si è deciso di rafforzare comunque i controlli e dunque nel concreto si diceva si pattuglierà il centro a piedi con la presenza di un funzionario di polizia, ci saranno più forze dell'ordine che gireranno la notte. Nelle zone maggiormente attenzionate come ad esempio il castello e le vie limitrofe ci saranno presidi fissi e unità cinofile. Guardando i numeri nel solo mese di settembre sono state controllate circa 700 persone nell'area del castello, ma specifici controlli ci saranno anche al terminal di Collemaggio, altro luogo caldo. In prefettura si è ribadito che sarà essenziale la collaborazione dei cittadini, si punterà sul controllo di vicinato e a proposito di questo nei giorni scorsi il Consiglio Comunale ha approvato proprio un ordine del giorno del passo possibile su questo punto, cioè la collaborazione tra forze dell'ordine e cittadini. C'è grande soddisfazione per l'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno proposto dal passo possibile e sottoscritto da tutte le forze politiche su un tema così importante come la sicurezza urbana sul quale, come avuto già modo di dire nella mia relazione durante la seduta consigliare, non ci possono essere differenze di partito di colore politico. In città si susseguono da diverso tempo episodi più o meno spiacevoli, molto si fa, tanto ancora si deve fare, per cui è importante che i cittadini, troppo spesso esclusi ingiustificatamente dalle decisioni che li riguardano, vengano coinvolti finalmente in una misura partecipata di presidio del territorio e quindi di collaborazione attiva con le forze dell'ordine, nell'ottica, a mio avviso, di quella imprescindibile solidarietà funzionale che ci deve essere fra chi vive la città e chi deve garantirne la sicurezza. Ringrazio nuovamente quelle che sono le associazioni cittadine, le associazioni di commercianti, le associazioni di residenti del centro storico ed altri, per aver stimolato il richiesto tra le varie misure proprio il controllo di vicinato, evidentemente ritenendo utile e prezioso quanto già proponemmo nel precedente ordine del giorno sulla vivibilità in centro storico.